È arrivata dalla Croazia carica di massi per la realizzazione delle ultime due scogliere di Sassonia Nord, la nave cargo La Nuova Rubicone, che ha già iniziato dallo scorso fine settimana a posizionare la prima scogliera all'altezza dei bagni Gabriele per poi concludere i lavori anche con la parte dei bagni Carlo. Abbiamo dovuto sospendere le attività durante la stagione estiva per permettere comunque sia il normale proseguimento della stagione estiva di balneazione e adesso sono ripresi i lavori proprio stamattina, anzi ieri e questa mattina, i lavori per le ultime due setti che permetteranno di arrivare a coprire il mare fino alla zona del porto. Questi due setti con un impegno di circa un milione di euro finanziato dalla regione Marche verranno fatti attraverso un lavoro della ditta Slimar che è di Chioggia che ha vinto l'appalto per il comune di Fano. I lavori qua dovrebbero procedere abbastanza velocemente perché ci vuole due giorni per caricare e poi far arrivare le navi e se il tempo si mantiene buono e bello come in questo momento noi pensiamo che per il mese di novembre sia tutto finito. Comunque ovviamente il comune di Fano vigila perché i lavori siano fatti nel più breve tempo possibile ed evitare come è successo purtroppo negli altri anni fenomeni erosivi durante l'inverno che sarebbero a danneggiare sia gli operatori balneari ma anche e soprattutto il patrimonio turistico della nostra città. In contemporanea e tempo permettendo partirà anche l'intervento di manutenzione straordinaria delle scogliere in zona Ponte Sasso. Con lo stesso materiale che viene dalla Croazia in zona Ponte Sasso per un importo inferiore certamente ma lì servono solo per riposizionare gli scogli e per ricostruire le scogliere che con la forza del mare in questi anni alcuni cogli sono caduti quindi rimettere in profilo corretto le scogliere a Ponte Sasso per proteggere anche laggiù la costa del nostro comune. I lavori per la difesa della costa fanese sono stati finanziati lo scorso anno dalla regione Marche insieme al comune di Fano. Abbiamo trovato le risorse, in questi anni sono stati stanziati circa 10 milioni di euro fondi regionali stanziati in accordo con l'amministrazione comunale. Quindi l'impegno messo in regione è un impegno che ha definitivamente risolto un problema annoso che veniva da decenni nella città di Fano su cui mi sono impegnato in prima linea.